sì ma dove si comprano dove si vendono e dove si creano queste nft oggi parliamo della regina delle piattaforme e sì perché ci sono tante piattaforme alcune con mesi di vita altri con anni di vita e altri molto più recenti partiamo con la numero uno che è open sea la principale piattaforma per la vendita e l'acquisto di nft dove però non c'è una singola categoria di nft quindi non c'è solo l'arte il gaming eccetera ma si trova di tutto e chiunque può vendere senza dover quindi essere per forza un grande artista è proprio open sea le reti supportate sono principalmente ethereum e polygon con una relativa criptovaluta denominata matic tuttavia la principale rete di scambio rimane ethereum quindi sostanzialmente ti consiglio di partire da quella tra l'altro matic non è altro che un layer 2 che va su ethereum quindi una criptovaluta che fa sì che con la sua rete si risparmiano le fii però ripeto non è così diffusa come ethereum quindi ti consiglio di utilizzare comunque la rete di ethereum perché quella che ad oggi dicembre del 2021 è ancora quella che è più utilizzata per quanto riguarda gli nft ovviamente devi considerare che le fii sono alte di ethereum possono essere sempre più alte a seconda dell'intasamento di rete e del prezzo di ethereum tuttavia però sappiamo che è questo il mondo degli nft in questo momento quindi è inutile voler bypassare questo problema perché poi risolto questo problema ce ne possono nascere di altri cioè che non c'è questa desiderabilità degli nft perché sono su una rete diversa da ethereum quindi utilizziamo mettiamoci l'anima in pace e cerchiamo magari di utilizzare scamotage per non pagare troppe volte queste fii è possibile infatti che ci siano dei momenti della giornata ad esempio o della settimana dove storicamente si va a pagare meno fii monitorate quindi l'andamento di questi valori e a tal proposito ti faccio vedere un sito che ho salvato qui e ti lascio in descrizione che riguarda il costo medio delle transazioni di ethereum questo è l'andamento negli ultimi anni e come vedete il prezzo cambia sulla sinistra qui vedete la media del prezzo in dollari come vedete ci sono dei picchi che corrispondono a un utilizzo maggiore della rete e soprattutto una maggior congestione della rete quindi quando tutti utilizzano ethereum per fare degli scambi boom c'è il picco questo a febbraio perché c'è stato evidentemente un picco lì e ci sono stati altri picchi a maggio magari prima del crollo che poi c'è stato su bitcoin e come vedete c'è stato un crollo dappertutto e poi c'è stato qualche momento di risalita quindi è da monitorare questo prezzo perché ovviamente su altri siti troverete anche gli andamenti giornalieri settimanali quanto volete però in questo momento è importante capire che le fii possono essere modificate durante il corso della giornata dei mesi e soprattutto potete anche impostare la velocità della rete a seconda che voi alziate o diminuate le fii di rete infatti un ethereum è formato da tantissimi guai e più aumentate l'importo di guai che volete pagare e più potete raggiungere velocemente l'obiettivo quello di effettuare più velocemente la transazione o che ne so di realizzare un'offerta che vada a buon fine subito questo perché avete utilizzato delle fii un po più alte abbiamo già visto degli indicatori in cripto facile ti lascio qui sul link per risalire anche alla velocità di rete quanto costano e come è intasata la rete di ethereum ma tornando su openc iniziamo a vedere quelle che sono le funzionalità di questo sito e la prima cosa che mi viene in mente è ma come mi devo registrare a questo sito innanzitutto devo registrarmi devo fare un kyc cioè devo mandare i miei documenti per poter utilizzare questo sistema chiariamo subito un concetto non dovete dare niente perché openc è un mercato decentralizzato per gli nft ciò significa che gli scambi avvengono direttamente fra utenti su reti tiri un dicevamo no perché utilizzeremo la rete team con l'ausilio ovviamente della piattaforma che agevola le transazioni ma che non detiene direttamente gli nft e come si accede alla piattaforma quindi molto semplice esattamente come uniswap anche questo spiegato in cripto facile bisogna collegare il proprio wallet vedete qui in alto il disegno di un portafoglio cliccando qui vi viene data la possibilità di collegare più di un wallet quindi non solo metamask ma metamask sostanzialmente è il più popolare ci sono altre opzioni qui sotto vedete ce ne sono veramente tante ma non amo andarmi a complicare la vita quindi uso metamask si apre metamask vedete mettete la vostra password una volta inserita la password avete il vostro wallet in caso specifico ho un wallet settato su ethereum e quindi è qui il mio wallet di ethereum perfetto mi sono registrato registrato in sostanza a openc ogni volta basta fare l'accesso e sei a posto quindi non devi fare nessun tipo di kyc o altro sei già a posto così è chiaro non fate come me che non ho praticamente ethereum su questo wallet voi lasciate sempre una quantità maggiore di ethereum qui perché le fee vengono pagate in ethereum quindi oltre a servire gli ethereum per acquistare gli nft dovete comunque pagare tutte le commissioni quindi ogni passaggio ha un costo ogni azione che fate ha un costo e il costo è in ethereum quindi vi conviene far subito un ricarico di ethereum perché ovviamente vi serve poi per agire su questo portale l'interfaccia grafica di openc è più o meno stabile nel tempo però come tutti i siti cambiano qualche disposizione di volta in volta quindi al momento è importante sapere che nella parte principale del sito cioè nella home page in genere mettono diciamo le cose di trend quello che va più di trend come vedete qui negli ultimi sette giorni quello che ha venduto di più quello che ha venduto di meno quello che è più in trend nelle categorie quindi fomo dog club quindi già il nome la dice tutta insomma qui trovate diciamo le cose più importanti le cose più rilevanti però in genere quello che importa poi la ciccia è qui nella barra e partiamo proprio da stats ranking che è la prima voce che voglio vedere con voi per quanto riguarda il trend pensate quando parliamo di un video di youtube quelli che sono in trend sono quelli con più visualizzazioni che fanno quindi più impressioni ossia ti compaiono a schermo più spesso per far sì che tu ci clicchi no perché youtube vede che gli altri ci cliccano ci clicchi anche tu vedi il filmato e siamo tutti contenti ecco compaiono perché alla gente piacciono e l'algoritmo te li manda in trend nel caso specifico gli nft più tradati con volumi in crescita più desiderati quindi compaiono nella home page almeno in genere funziona così e ricordati che finire non page come finire solo un page di amazon per dire fa sì che il prezzo generalmente schizzi verso l'alto la visibilità è molto importante quindi più un progetto è conosciuto più è desiderato più vale i crypto punks ad esempio li vediamo anche in questa schermata dei ranking infatti li conosciamo già tutti perché se ne parla ovunque probabilmente il fatto che siano in circolo da tempo e molti personaggi famosi ne abbiano acquistati anche solo per mettere l'immagine su twitter quindi capite che è tutto un meccanismo di visibilità di conoscenza è più è conosciuto e più è desiderato e proprio 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 i crypto punk sono quelli che sono primi nel ranking sotto stats ranking praticamente sono quelli con i volumi di trading più alti o meglio i volumi di scambio più alti sono stati scambiati crypto punks per 11.104 eth negli ultimi sette giorni ragazzi sette giorni parliamo di milioni e milioni di dollari un 106 per cento in più nelle ultime 24 ore quindi i volumi sono molto in crescita e sulla settimana un 27 per cento è chiaro che siano in trend e ovviamente qua vediamo anche gli item cioè quanti ce ne sono ce ne sono 10.000 o 9.999 ecco 9.999 nello specifico quindi è molto importante anche passare il mouse sopra questo indicatore e i possessori che sono 3.300 o meglio 3.269 nel caso specifico openc non ci dà il floor price floor price che abbiamo visto essere il prezzo minimo per acquistare uno di questa collezione collezione che è verificata perché vedete qui la spunta blu e viene scritto verified collection quindi è assolutamente certificata da openc vedete che il terzo per volumi è questo rt fkt clone x che non conosco ammetto questa non è verificata ha uno scambio incredibile perché sono quasi 7.000 ethereum quello che costa meno costa due ethereum e mezzo però non è verificato questo potrebbe essere un problema perché non essendo verificato da openc potrebbe essere oggetto di scam di truffa diciamo perché potrebbero non essere così unici questi nft la sto semplificando però diciamo che la verifica su openc che è la piattaforma più grande di tutto in questo momento sicuramente dà una tranquillità in più a chi vuole investire peraltro stiamo parlando di 10.000 dollari quasi per comprare anzi di 10.000 dollari non quasi per comprare il più economico di questa serie quindi stiamoci attenti tra l'altro sono 14.841 pezzi sono anche più del crypto pang quindi evidentemente c'è tanta fomo su questo progetto ed è questo uno dei metodi per capire innanzitutto quale può essere un progetto più profittevole di altri mi spaventa questa cosa che non fa vedere nelle 24 ore nei sette giorni perché bisognerebbe andare a studiare questo progetto e capire da quando è in circolo e quanto può quindi andare a finire il valore di ogni singola opera già capite quindi che ogni singolo progetto è un mondo a sé e quindi bisogna stare molto attenti studiare molto vedete in questo progetto ad esempio i volumi sono molto alti il prezzo più basso floor price è 2,49 quasi 2,5 insomma ethereum ci sono 5.100 circa proprietari che dispongono di 14.900 pezzi clone x si chiama questo progetto può piacere o può non piacere fatto sta che il prezzo è questo e il prezzo è elevato qui ci sono le offerte quindi non fatevi fregare perché quello è il prezzo di offerta ma non è detto che chiuderà quel prezzo anzi probabilmente chiuderà molto più in alto e passiamo adesso alla sezione della ricerca perché è molto importante in openc e immagino che rimarrà sempre posizionata in alto all'interno del sito potrete infatti effettuare direttamente la ricerca dei vostri nft senza dover scorrere pagine e pagine di nft in cui perdersi e nel caso specifico andremo ad eseguire una ricerca su alcuni nft del gaming vediamo un po axi infinity eccolo qui è verificato vedete ce ne sono tanti potrebbero essere dello scam questo non è scam perché è quello verificato ci sono quindi 284 mila circa pezzi è un 45 mila di proprietari ma adesso che abbiamo visto axi infiniti che è più conosciuto andiamo a vedere tetan arena che invece è un gioco appena uscito a cui io gioco vedete già che non ce n'è uno autorizzato non ce è verificato allora tra gli account c'è questo tetan arena proviamo a vedere se questo vedete qua ci sono 26 item eccetera io non mi fiderei ad acquistare se andiamo qui vediamo questo dice official account certi file bau pensi però c'è sempre da stare attenti io non vedo spunto e quindi c'è da stare attenti ripeto questo è perché axi infiniti è uscito tanto tempo fa mentre gli altri non sono usciti da così tanto tempo come tetan arena quindi bisogna stare attenti cliccando nel personaggio vedete delle impostazioni cercando i cripto punk vedete che non ci sono problemi perché questo è verificato ce ne sono vari tipi di cripto punks rap ed quello che volete ma i cripto punks sono unici 9.999 item e sono cripto punks verificati e vediamo infatti che i pezzi qui sono 10.000 meglio 9.999 scorrendo sotto troviamo sulla sinistra tutta una serie di filtri che ci aiuta nella ricerca nel caso specifico se volessimo cercare un cripto punks in vendita ora cioè avete presente ebay no quando fate il compra ora trovate la possibilità di acquistare subito a un prezzo fisso o sennò di comprare all'asta altri parametri modificabili qui sulla sinistra sono il prezzo che vi consiglio di tenere sempre in ethereum che è praticamente l'unità di misura degli nft poi dopo c'è la possibilità vedete qui di modificare altri valori come la chain di riferimento in questo caso ethereum oppure altre cose come gli accessori in questo caso dei cripto punk eccetera ovviamente nei videogiochi potete trovare che ne so le caratteristiche del personaggio se ha più stamina cioè più resistente o se è più forte in combattimento ecco trovate tutto qui sulla sinistra ci sono vari tipi di filtri per determinare quale nft che fa più per le vostre esigenze altra sezione importantissima è quella delle activities che trovate sotto stats activity ebbene serve a vedere gli ultimi movimenti all'interno di open sea e sempre attraverso i filtri qui sulla sinistra a studiare lo storico dei vari progetti e dei singoli nft usando sempre i cripto punks come esempio possiamo andare a vedere tutte le transazioni recenti e verificare ad esempio negli ultimi giorni la media prezzo ma non solo che ovviamente va considerata in ethereum vediamo qui ci sono i cripto punks venduti di recente vedete 30 minuti fa 23 minuti fa sono molto recenti e qui sopra vediamo negli ultimi 90 giorni la media prezzo e i volumi se mettiamo per semplicità gli ultimi 30 giorni vediamo che questa linea è la media del prezzo che è sui 118 120 110 qui anche di più ethereum qui 237 ethereum invece qui c'è i volumi ci sono i volumi di scambio quindi anche graficamente è molto semplice da leggere potete andare anche sui sette giorni per vedere nel periodo proprio recentissimo come sta andando infatti la media nel recente e 117 prima da 120 quindi è scesa leggermente la media del prezzo come vedete qui sulla sinistra però è selezionato sales perché evidentemente in precedenza avevo già selezionato questa voce selezionando questa vediamo solo le vendite al contrario potremmo vedere le offerte i trasferimenti tutto il resto qui veniamo solo le vendite e vediamo che le vendite sono avvenute 80 73 68 65 ethereum sono cifre molto alte ma andiamo a vedere questo crypto punk numero 2964 tra l'altro ricordatevi che in genere il numero più piccolo è meglio è più e desiderabile nel caso specifico non è proprio così perché vedete che quello sopra un numero inferiore è costato meno questo c'è qualcosa di strano anche perché costa 374 bisognerebbe conoscere bene il progetto e capire che peculiarità ha entrando all'interno di questo progetto vediamo o meglio di questo in effetti che è unico vediamo che questo prezzo è cresciuto tantissimo ossia è stato acquistato a maggio del 2020 a 15,5 ethereum parliamo di circa 3000 dollari e siamo arrivati ad oggi al 13 dicembre 2021 a valere 374 dollari un milione e mezzo di dollari circa è una cosa incredibile ovviamente passare da 3000 dollari a un milione e mezzo di dollari e qua vediamo lo storico qui sotto dei trasferimenti e vediamo che c'è stato quindi un trasferimento a questo token angel a 15,5 ethereum due anni fa circa in realtà è il 14 maggio 2020 e poi token angel vediamo che l'ha venduto a 305 dollari 8 mesi fa e adesso è stato venduto a 374 dollari anche chi l'ha comprato a 305 dollari qualche mese fa ha fatto un gran profitto perché ha fatto circa 69 ethereum di guadagno tantissimo 6x4 24 e 240 mila dollari detenendo 8 mesi questo nft a costo zero perché non ci sono fi per detenerlo solo per comprare per vendere e ovviamente per tutte le operazioni intermedie tra cui fare le offerte e quant'altro ma andiamo a vedere chi è questo token angel perché la rete è pubblica la blockchain è pubblica anche su open si si vede tutto non si sa nome e cognome ma si vede il portafoglio e che cosa ha in portafoglio ebbene vediamo che questo soggetto ha 836 nft anche questa quindi può essere una strategia cioè vedere quelli più forti di noi che cosa fanno nel caso specifico ne hanno 836 ma con uno solo ha guadagnato da praticamente 15 ethereum a 305 ethereum in un anno e qualcosa quindi un fenomeno ma se andiamo a cercare se altri crypto punk magari neanche più di uno crypto punk vediamo vediamo eccolo qua ce n'ha più di uno a questo punto quindi questo ad esempio 20 et questo 1,5 et vediamo questo 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 allora lui l'ha comprato due anni fa l'ha pagato 1,5 et vediamo qui 1,25 scusate ethereum adesso magari se volesse venderlo potrebbe venderlo non lo so a 70 80 et come abbiamo visto quelli di prima magari non saranno tutti da 374 et però anche forse da 70 et con 1 et 1,25 e ricordo un eth due anni fa costava 2 300 dollari dipende dal momento già se costasse anche solo un eth e 25 avrebbe guadagnato per il token ethereum per la criptovaluta ethereum che è aumentata ma nel caso specifico probabilmente avrà fatto un per 50 un per 70 altri però forse evidentemente le ha pagati di più vediamo questo qui lui ha pagato questo crypto punk 10 mesi fa 49 ethereum c'era un'offerta a quanto pare cancellata di 30 ethereum quindi in questo caso non gli era andata così bene però è chiaro che ha fatto dei gain incredibili con quelli precedenti quindi chapeau ma vediamo un ultimo progetto i crypto bulls vediamo un'altra peculiarità di open sea perché qui c'è scritto all items e invece possiamo scegliere bundle sebbene sì ci sono dei prodotti che vengono venduti in bundle cioè il proprietario li vuole vendere assieme o due o tre o anche di più nel caso specifico qua ci sono tre item insieme tre nft potete scorrere qui sotto e vederli tutti e costa 0,2 ethereum in quest'altro caso ci sono solo due di questi nft e sono diversi in questo caso questi sono di una collezione evidentemente tra l'altro i crypto bulls non sono neanche verificati quindi occhio però è per capire che ci sono anche dei bundle no e in questo caso c'è un bundle di due o di tre con un prezzo variabile vediamo un'ultimissima cosa facciamo una ricerca generale togliamo da qui su tutto e mettiamo buy now perfetto rimasto crypto bulls lo togliamo vediamo tutto quello che si può comprare ora vediamo questo qui che è un rumble con league che non conosco entrando però vediamo una cosa interessante vediamo che questa vendita finisce fra otto ore quindi il prezzo è fisso ma va comprato entro otto ore da qui si può costruire una strategia si può ad esempio decidere di non comprare aspettando che venga rimesso a un prezzo più basso detto che questo comunque è un bundle perché vedete è un duo dynamic duo al contrario ci sono delle offerte che possono essere a tempo come queste cioè che scadono un determinato giorno ma col passare del tempo diminuisce il prezzo quindi ogni settimana scende il prezzo questo significa che però l'asta diventa al ribasso questo punto quindi c'è qualcuno che potrebbe aspettare il momento esatto del ribasso per entrare in quell'istante preciso all'acquisto quindi state attenti qui sotto poi ci sono anche delle descrizioni a in questo caso c'è poco ma vedete che ci sono anche delle offerte e tutto il resto insomma bisogna un pochino smanettare guardiamone un altro vediamo in questo caso qui sembra un bundle di una terra vediamo che comunque nella bundle description c'è scritto ben poco anche qui però se vediamo magari qualcosa che non sia un bundle vediamolo assieme in diretta bene i'm frank non so cosa sia entriamo qui vediamo che innanzitutto il colore ci fa capire che questo è su polygon quindi non è su ethereum su ethereum è grigio quindi il colore nero grigio insomma di ethereum classico sul violino è praticamente sul viola insomma è polygon e vediamo che qui sotto invece su questo in effetti singolo ci sono più proprietà insomma vediamo qui 100% cioè praticamente questa caratteristica ce l'hanno il 100% di quelli che sono questi progetti qui invece questo specifico i'm frank ha una caratteristica che al solo 4% di tutti gli altri cioè il candy cane ok sono cose da studiare però questo è il discorso altra cosa carina se cliccate qui andate a vedere qual è il progetto i'm frank quindi se volete capire quali sono quelle specifiche appunto che sono lì in basso le trovate qui il sito dovrebbe essere più o meno articolato in questo caso non mi sembra molto articolato anzi non mi sembra particolarmente promettente questo progetto tant'è che non è neanche verificato mi raccomando però ricordatevi sempre che state gestendo del denaro nel caso specifico qui sarebbero 50 dollari più le commissioni di rete con polygon sarebbero più basse ma comunque si arriva che ne so a 50 dollari 60 dollari 100 dollari per ogni click ragazzi state attenti perché qui si sta parlando comunque di soldi veri questo progetto potrebbe non valere assolutamente niente vedremo nel corso del video corso tante altre cose però dovete stare attenti questo ve lo ricorderò più volte attenzione perché rimane una jpeg caricata come nft lo potrei fare in 30 secondi e anche qui c'è la funzione create su openc ma la vedremo più avanti state attenti perché sono i vostri soldi che se guadagnati onestamente fa male perdere sì lo so la funzione create è molto interessante la affronteremo in un video specifico dove parleremo di create su openc e su altre piattaforme meglio non aggiungere troppa carne al fuoco per questa lezione a proposito se ti è piaciuta questa lezione lasciami un like iscriviti qui sotto al mio canale iscriviti anche su telegram e mi raccomando condividi con i tuoi amici ci vediamo nella prossima lezione ciao ciao ciao